Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video, bentornati sul mio canale, iscrivetevi al mio canale e io vi racconto oggi delle profumazioni che stanno arrivando nei negozi. Alcune profumazioni sono già arrivate, infatti ho anche un campione di uno dei profumi e vi farò un video il mercoledì dove farò una recensione di questo nuovo profumo. Allora, incominciamo, vi leggo il nome del profumo e alcune note. Non sono ancora tutte le note pubblicate, quindi alcune profumazioni non hanno tutta la piramide olfattiva e quindi vi leggerò solo quelle che so, tutte quelle che ho potuto scavare su internet. Allora, incomincio e ovviamente metterò anche la fotografia del profumo separatamente. Incominciamo con l'Armani e questo è il My Way Nectar e quindi abbiamo, io sto traducendo da un'altra lingua, quindi sarò un pochino più lenta, i fiori d'arancio, il bergamotto, la pera, la tuberosa, il gelesamino, vanilla bourbon, il muschio bianco e cedro e anche la violetta, il foglio della violetta. Interessante, interessante questo forse perché c'è questo foglio della violetta, c'è la vaniglia, quindi sarà una cosa un po' più cipriata, forse un po' più dolce di quel solito My Way. Io vi devo dire che quando è uscito My Way, abbastanza tempo fa, 3-4 anni fa, quando è uscito, non me lo ricordo più, ho detto sì, non è un cattivo profumo, io infatti ce l'ho, però secondo me un profumo totalmente normale, standard, fiori bianchi, buonissimi, sì, ma non c'è niente che veramente vi fa emozionare, un buon profumo, un solido, un buon profumo che comunque non c'è il perché, no? Però quel tempo ho deciso, vabbè, lo prendo, anche perché mi piace un profumo, per me è un profumo quotidiano che uso in ogni dove e quindi sono molto molto curiosa di provare anche questa nuova profumazione che sta uscendo. Il prossimo profumo è Elizabeth Arden che si chiama Coconut Breeze, è quindi la brezza del cocco, Elizabeth Arden Green Tea, quindi il tè verde, abbiamo le note di pezzi di cocco, il tè verde, abbiamo cocco salato, ambra, labbra bianca e muschio. Allora, mi piace tantissimo il tè verde, mi piace tantissimo quel tè verde classico che ho qua dietro di me, mi piace tanto, questo era il mio profumo nel 2006, era 2006, non ero per la mia prima volta in Italia, no, era la seconda volta, sì, probabilmente seconda volta, ma era la mia prima volta in Italia che ho fatto anche il lavoro qua, quindi all'aeroporto di Helsinki ho comprato questo profumo, c'era anche un bellissimo trousse, crema corpo e mi ricordo che usavo questo profumo tutto il tempo, non durava niente, non dura niente nemmeno adesso, quindi la formulazione del profumo è quella che è, non dura tanto, però mi piace tantissimo, mi ricorda anche dei miei primi tempi in Italia che erano bellissimi. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti, abbiamo Kevin Kline Eternity Aromatic Essence, quindi l'essenza aromatica, io non sono una grande amante di Eternity, di Kevin Kline, ma mi piace tantissimo Kevin Kline, quindi vedremo cosa sarà, ma le note di questo profumo sono molto molto interessanti, abbiamo la Black Current, oh Dio mia, Ribes Nero, l'acqua di cocco, la pionia, lavanda, sandalo e il muschio, interessante, interessante, e qua, qua vedrete che secondo me c'è anche una linea rossa in tutti questi profumi, o in tanti di questi profumi, c'è il cocco, in tantissime di queste profumazioni c'è il cocco presente, sarà i pezzettini di cocco, sarà il cocco, sarà l'acqua di cocco, ma il cocco è il protagonista indiscusso di questa estate, che non mi dispiace perché il cocco mi piace tantissimo. Un altro profumo che è quello che sto aspettando veramente, purtroppo conosco solo tre note, non so, magari saranno di più, ma è quello che ho potuto trovare adesso, Chloe Nomad, la notte egiziana, abbiamo i fiori d'arancia egiziani, la mirra e la vaniglia, molto, molto, molto interessante. Poi, abbiamo un'altra profumazione, questa è la profumazione per la coppia, quindi esiste la versione maschile e quella femminile, tra l'altro uno dei brand che apprezziamo di più, Jean Paul Gossier, Jean Paul Gossier e questa è la loro profumazione, che si chiama Jean Paul Gossier, la Belle Paradise Garden, quindi il giardino paradisioco, il giardino del paradiso, non so, uno di questi due. Abbiamo il lotus, lotus blu, blu lotus, Iris e la vaniglia. Tra l'altro queste stesse note sono quelli che erano due anni fa nella profumazione che è uscita in edizione limitata, che si chiamava Fleur Terrible, che questa stessa profumazione quando è uscita costava 120 euro per 100 ml e mi sono detta, ma no, costa un po' troppo, no? Però poi tutti i prezzi sono levitati veramente tantissimo, quindi alla faccia di quello 120 euro per 100 ml non c'era nemmeno tanto. Quindi non ho comprato quel profumo e mi sono pentita amaramente. Invece questo profumo qua, perlomeno per quello che si sa per adesso, le note sono molto simili e anche la profumazione, anche la bottiglia stessa è molto molto simile. Invece esiste anche la versione per il maschio, quindi la versione maschile, che secondo me le note della versione maschile sono molto più interessanti. Abbiamo qua la menta, le note acqua, la profumazione acquatica, insomma, zenzero, le note verdi, il cocco, sale, fico, le fave tonka e sandalo. Secondo me è eccezionale. Abbiamo il fico, abbiamo il cocco. È veramente paradisiaco. Vedremo, vedremo. Sono molto molto curiosa di provare entrambi, 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 entrambi le profumazioni. Allora, abbiamo un'altra sorpresa, Escada. Escada, di solito noi sappiamo che Escada esce ogni estate, prima dell'estate, ovviamente molto molto prima dell'estate, già adesso, in febbraio, gennaio-febbraio. Questa volta Escada sta uscendo con due profumazioni estive. Abbiamo il nectar di Costa Rica e qua abbiamo il mango, ananas, fiori d'arancio, gelsomino muschio e cedro. Invece c'è un'altra profumazione che si chiama Escada brisa cubana. Abbiamo mojito, lime, menta e mariposa lili. Mariposa lili. La mariposa è il butterfly, quindi la... mariposa, butterfly in italiano sarebbe la... adesso un momento di crutinismo non mi viene, ma insomma avete capito. e quindi questo è il tipo di Lilia, credo. Quindi, sì, ecco. Un'altra profumazione, tra l'altro di un brand che mi piace tantissimo, è per anni e anni e anni, questa profumazione, questo brand, Flower Bomb di Victoria Rolf, era una delle mie profumazioni preferite insieme alla profumazione Jean Paul Gaultier Classic. Quindi abbiamo Flower Bomb, Tiger Lily di Victoria Rolf, abbiamo il latte di cocco, Bergamotto, la Lilia di Tigre, quindi un tipo di Lilia. Abbiamo Gelsomino, Fresia, Mango e Benzoino. Vediamo, vediamo, ma le note sono veramente una cosa fantasmagorica. Abbiamo il Narciso Rodriguez for her mask nude, che è il campione che ho già, e quindi il mercoledì troverete il video recensione di questa profumazione. Andiamo avanti, abbiamo Yves Saint Laurent, Black Opium Over Red, la profumazione nuova. Abbiamo la Cherry, quindi la oddio, la celiegia, la celiegia, il mandarino verde, i fiori d'arancio, Gelsomino, tè nero, attenzione, interessante, la vanilla di Madagascar, caffè, e il foglio del patchouli indonesiano. Questo è molto, molto interessante. Vi posso dire una cosa, che io ho questo profumo, questo profumo, ho già visto online, online, non offline, offline ancora no, purtroppo. Sono molto, molto curiosa, anche perché Yves Saint Laurent, Black Opium, come tutta la linea, mi piace tantissimo, secondo me è un profumo eccezionale, sì, qualcuno lo reputa di essere un pochino banale, ma a me piace, a me piace veramente tanto. è arrivato, è arrivato il codice sconto di Yves Saint Laurent, tipo, comprate qualcosa, con questo codice, non il codice sconto, ma il codice offerta, vi manderemo una piccola, una taglia deluxe, una taglia piccola, di questo profumo, e purtroppo questo codice non funziona, e nei negozi questo profumo non c'è ancora, offline, quindi non ho potuto procurarmi il campione, o magari, che è meglio, perché queste profumazioni sono quelli che hanno veramente catturato la mia attenzione, e quindi, se, magari, provando, mi rendo conto che è una profumazione che non aggiunge niente alla mia collezione, quindi full size non ha senso di comprare, ma almeno 10 ml, quindi il travel size mi piacerebbe tanto avere, perché queste sono le profumazioni che hanno veramente stuzzicato il mio interesse. Andiamo avanti e vi leggerò altre profumazioni. Allora, abbiamo Givenchy Irresistible Very Floral, e quello là l'ho già visto online, offline, ancora no, abbiamo le note di acqua di cocco, ribes nero, bergamotto, la rosa, la rosa di grass, lank lank, iris, girsimino sambac, ambretta, ambretto lide, legno di cedro, e le note solari. io ancora adesso, a distanza di un paio di anni, 3-4 anni, quando le note solare sono esplose, era proprio un trend, note solare, note solare, solar notes, fino a questo momento, io veramente non capisco cosa sia solar notes, quindi, cioè, un po', un po', capisco, quindi, sono queste note che noi sentiamo di solito in estate, di solito, non so, in spiaggia, quindi, anche, tipo un tripudio, un pochino, un pochino di acqua, sale, acqua marina, fiori, qualcosa di esotico, quindi, lanky lank, un po' di cocco, tiare, quindi, anche, la profumazione della crema, per la bronzatura, un mix di tutto, questi, secondo me, sono le note solari, non so, corriggetemi, se non ho, se ho torto, cosa per voi sono le note solari, raccontatemi, per favore. Allora, un'altra profumazione è Maison Martin Margiela, e abbiamo la profumazione che si chiama From the Garden, e abbiamo il foglio del pomodoro, il mandarino verde, geranio e paciuli. Abbiamo altre due profumazioni di Tom Ford, e con Tom Ford non sono mai andata d'accorda, io, attualmente, ho due profumazioni di Tom Ford, che, non so, una, almeno una la voglio vendere, perché non ha senso di tenerla, non so, non c'è mai questo click, no, tra me e questo brand, ho provato, ho riprovato, avevo campioni, avevo mini size, attualmente ho una taglia deluxe e un'altra ho una profumazione di 50 ml, ma niente da fare. Comunque, abbiamo due profumazioni di Tom Ford, una si chiama Vanille Fatale, quindi la Vanille Fatale, abbiamo Coriander, non zenzero, Saffron, quindi Zafferano, Caffè, Frangipani, abbiamo Narciso, Tobacco, Mahogany, quindi il tipo di legno e Vanille di Madagascar. Queste sono le note molto interessanti, non sono particolarmente le note che piacciono a me, però l'insieme mi stuzzica veramente, poi vedremo se queste profumazioni saranno disponibili qua, perché magari non saranno disponibili e non potrò mai provarli. Un'altra profumazione di Tom Ford che si chiama Vanilla Sex, S-E-X, quindi Sex, non so nemmeno se posso dire questa parola qua su YouTube, spero di sì. Allora, ma qua penso che la maggior parte della fama di questo profumo sarà dovuto al nome, non al profumo stesso. Allora, qua abbiamo le note di Vanilla, di Mandorla Amara, assoluto di Vanilla, Ultra Vanilla è una, credo che è una molecola fatta in laboratorio che sa di Vanilla, Favetonga, Legno di Sandalo e le note fiorite, vedremo. Mi stussica, sì, non credo che sarà una profumazione wow, perché le note sono abbastanza banali, la profumazione che era prima era più interessante, ma vedremo. E abbiamo ancora le profumazioni di Marby Jacobs e qua sarà un pochino di caos con i nomi, perché abbiamo Marby Jacobs Daisy So Fresh Pop che ha le note di lime, di limone, pera, violetta, rosa, muschio, cedro, vedremo, interessante, un'altra profumazione che noi sappiamo che quando quando Marc Jacobs esce con la profumazione di solito esce con tre, no? Quindi Daisy Pop Marc Jacobs e qua abbiamo le note di Pompelmo di scusate un attimo che devo bere Pompelmo, il foglio di violetta, questa è la mia tazza invernale ancora con i mumitrolli, Yuzu, kumquat, gelsomino, muschio e vaniglia, interessante, le le boccette sono molto molto carine, Daisy Love Pop di Marc Jacobs, qua abbiamo bergamotto, pistacchio, la crema e il muschio e il benzoino, interessante, a finire vi vorrei raccontare anche di un altro profumo che è di Valentino che si chiama la Valentino Born in Roma Green Stravaganza quindi la stravaganza verde e qua sono interessanti sia il profumo da uomo che la profumazione da donna in quella da donna abbiamo la psang su shong te abbiamo il gelesimino di vaniglia invece la profumazione da uomo ci offre il bergamotto di calabria caffè e il vetiver queste sono le profumazioni che io personalmente le ho trovati più interessanti di tutti che al momento so che stanno uscendo poi indubbiamente arriveranno anche le altre quindi farò altri video di questo tipo ma se voi avete già sentito alcune profumazioni fatemi sapere per cortesia perché sono molto molto curiosa ci vediamo il prossimo mercoledì con la recensione del nuovo profumo di Narciso Rodríguez vi auguro una buona giornata grazie della vostra attenzione ciao ciao